Il quartetto composto da Harry, Meghan, William e Kate sarà riunito per il matrimonio dei primi due, ma la duchessa di Cambridge potrebbe non avere un ruolo 501 primo piano durante la cerimonia e il ricevimento. Mentre il marito sarà testimone dello sposo, Kate, che potrebbe partorire da un momento all'altro il Royal Baby numero 3, non farà da damigella, come alcuni rumors nei mesi scorsi hanno suggerito. È quanto ha rivelato una fonte interna a Vanity Fire, sinceramente, Harry e Meghan sono felici già solo per il fatto che Kate parteciperà poco dopo aver partorito, ha detto la fonte. Hanno detto che non ci sarà alcuna pressione su di lei per fare alcunché, vogliono soltanto che si diverta e si goda la giornata. La scelta dei due non deve essere vista come snobbo o come un tentativo di non oscurare Meghan, vogliono solo che non si preoccupi di nulla, ha aggiunto la fonte. Conoscono Kate e sanno che avrà le mani occupate. Al matrimonio della sorella Pippa, la duchessa di Cambridge ha avuto un ruolo chiave nella cerimonia, badando a tutti i piccoli paggetti e damigelle. Ma il compito non è stato di certo riposante, ad un certo punto, Kate ha dovuto sgridare il figlio George per aver fatto dei capricci. Questa volta avrà anche un neonato a cui badare, ecco perché Harry e Meghan vogliono che si prende il suo tempo e che non pensi a nulla.